Ultimo giorno di allenamento per il Napoli in vista della gara di domani all'Olimpico contro la Lazio. Walter Mazzari può sentirsi più sereno con l'arrivo di nuovi innesti, anche se la squadra sarà completa dalla prossima settimana. Fatto sta che il tecnico può contare adesso su molti più uomini a disposizione ed anche su una buona tenuta fisica. Sicuramente però Mazzari utilizzerà già qualche pedina dal primo minuto. Basti pensare che a centrocampo l'allenatore potrà schierare Demme accanto all'obot, Kako Zielischi a chiudere la mediana e Dedonker unica alternativa in quella zona del campo. Tra ore verrà convocato, ma solo a livello numerico, visto che il calciatore non è al top della forma e avrà bisogno ancora di molto tempo per tornare in campo, visto che finora non ha mai praticamente giocato. Mazzari dovrà fare i conti con numerose assenze e per il suo 3-4-2-1 si affiderà a Gollini in porta. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Rachmani e Wajesus. I quattro al centrocampo saranno Lobot, che è uno tra Demme e Zielischi, con il tedesco che sembra in vantaggio. Con Mario Rui e Mazzocchi. In attacco, scelte obbligate per il tecnico azzurro con Politano e il balottaggio tra Lindstrom, venne arrivato un Gogge, che sta ben figurando negli allenamenti che saranno alle spalle di Raspadori. In casa Lazio, Sarri, con il suo 4-3-3, schiererà prove dell'importa. A coprirlo ci saranno Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. Il centrocampo sarà formato da Gwendusi, Rovella e Luisa Alberto. Il tridente di attacco vedrà agire i Saxen, Castellanos e Felipe Anderson. Intanto, sul fronte del mercato, in casa Napoli, bisogna risolvere la problematica riguardante la lista dei 25 uomini massimi in rosa. Perez dell'Udinese è un passo da arrivare, ma il calciatore deve liberare uno slot. Ostigard ha frenato il suo trasferimento al Genoa. In caso di mancata partenza, gli azzurri dovranno mettere un calciatore fuori rosa per far spazio al difensore dell'Udinese. Ipotizzabile quindi che fra uno, fra Demme e Zielinski, verrà messo fuori squadra e non prenderà parte la seconda fase della stagione.